Ma, devo usare un carro armato? Io voglio questo Vi prego, fattemi usare il carro armato Oh mio Dio! Finalmente mettono qualcosa anche per me, che bello Hashtag, giocodellavita Scontrati con più veicoli possibili prima dello scadere Detto fatto E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, e questo gioco è Crazy Taxi E oggi giocheremo a un gioco che non so se molti di voi consulini conosceranno Ma quando eravamo piccoli, io e Stef, era il gioco praticamente più giocato in tutte le sale giochi Se facevi un record lì, eri il più figo della città, secondo me Esatto, venivano tutti ad acclamarti, lanciandoti soldi e cose varie Cioè, non è vero, proprio a meno era così Perché è uno dei giochi più impossibili che faceva impazzire tutti Ed era super divertente giocarci Pieghiamo brevemente Volevo dire, la versione per cellulare e finalmente lo possiamo giocare anche da casa senza andare nelle sale giochi Esattamente, che è decisamente più comodo E poi non devi mettere una monetina ogni 40 secondi quando perdi Cosa abbastanza importante Praticamente abbiamo il nostro taxi Dobbiamo semplicemente portare i clienti da una parte all'altra nella città in poco tempo E quindi è normale Però diciamo che alla guida siamo un po' pazzi Cioè, io la patente a noi stessi non la darei mai e poi mai E soprattutto neanche il brevetto da tassista Come si chiama, perché davvero, davvero Guarda cosa ci dice questo qua Sto trattando con la stella del football americano Non c'è tempo da perdere Ok, mi raccomando non ucciderla Perché sei un personaggio famoso Poi ci fa una brutta reputazione Io vado È sempre così Non ti prometto nulla Ok, non lo uccidere Ok Allora, non so neanche se dovevo schivare le cose Curva un pochettino Bravo, sto andando bene Adesso curva così Lo prendo Ma sei buttata sotto la macchina Allora Premi il tasto turbo Per se c'è l'entra il traffico Cioè, ma io premo E fa tutto da solo Perché se no mi schianto adesso, ragazzi Ok Sì, sì, perfetto Lo voglio nella vita reale Frena, 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 frena Aspetta, 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 aspetta Ce l'ho fatta a frenare? Ce l'abbiamo fatta? No, va benissimo Prego, prego Bravi Quando volete Guarda A sette secondi Eh, vabbè Sobrio, no? Assolutamente sì Allora È stata una corsa un po' strana A sette secondi dalla fine Si è riuscita a completarla Quindi direi che stiamo già iniziando bene Un sacco di soldi Ci siamo fatti Non ho ben capito Come si frena Che è un dettaglio importante È un dettaglio importante Però non mi è chiaro Non mi è chiaro Allora, cosa dobbiamo fare qua? Guida per le pazze colline E i vicoli ofolati del centro Siamo prontissimi Dateci qualcosa da fare E noi la facciamo Questa credo che sia ufficialmente La nostra prima, diciamo Missione da tassista Cambio vita Oggi è un meeting di lavoro troppo importante Devi portarmici in tempo 1100 dollari Due clienti Difficoltà Eh, però che caro sto taxi Beh, però ti assicura di arrivarci in tempo Questo è il nostro nuovo taxi L'abbiamo comprato Ah, l'hai cambiato? Sì, con i soldi che c'ha Il manager super figo Ma ormai è qui Guarda, 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 guarda Cosa sta facendo? Sta trasformando Diventa Superman Stava lanciando i soldi Odio la vita di me i soldi E questa già coprimente Sono a mia maledizione Ok, è un po' agitato Il nostro cliente Non è molto di buon umore Venga, salti su Non è molto di buon umore Siamo le persone adatte a lei Comunque se odi così tanto i soldi Regalaceli Guarda che bravo che sono Guarda qua, Steph Ok Tutto ok Quella era la macchina della polizia Meno male che l'ho schivata in un modo o nell'altro Perché erano guai Allora, pronto 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 Come freno? Io ancora non l'ho capito Secondo me devi premere Non funziona premendo il freno? Forse così Ah, devo cliccare Capito? Te lo stavo dicendo a due ore Prova a cliccare quello Si è cambiato Ma che fa? Portami al parco Ma perché gli stiamo dando anche retta ragazzi? Perché? Perché gli stiamo dando retta? Perché è un riccone Che ci paga Che è impazzito? Eh, esatto Ci paga la corsa ben 1100 dollari Quindi lo portiamo esattamente dove vuole A priori da quello che sta facendo Comunque se odi così tanti soldi Ce li puoi regalare, no? Esatto Qui se preferi i mici Non è che ci fanno schifo Sì, una casetta ci farebbe comodo Sinceramente Aria libera Ma che dice? Curva Scusi Ahia Scusi, scusi, scusi Non è colpa mia Allora, freno, 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 freno Vedi? Ormai sì Sei proprio un frenatore provetto Figurati amico Steffi il frenatore Che sta andando? Al parco C'è l'infradito Secondo me sai che cos'è? È di quei ricchi che dopo un po' impazziscono E vogliono fare i barboni Capito? Quindi lui ha detto Basta ma la mia vita vado a vivere nel parco E vivo di, capito? Di piante E noi gli diamo una mano a fare questa cosa Bevo nel laghetto del parco No ma è una pessima idea Io non gli voglio dare una mano a rovinarsi la vita Tu non devi fare domande Tu li devi solo portare a destinazione Poi la vita è una scelta loro Hello Kitty Cos'è sta cosa? Cioè c'è Hello Kitty contro Sonic Lo voglio giocare Lo voglio giocare ti prego Io lo Run with Kitty Cioè lo facciamo Lo porteremo Ve lo promettiamo Lo facciamo Oddio la vita sono Ma perché mi cambia i dialoghi? Prima era difficoltà facile Questa è estrema È quello che ti volevo dire Difficoltà estrema Quindi iniziamo a fare le cose davvero difficili finalmente Il tuo taxi è troppo scarso per questa missione Vuoi davvero provarci? No ma c'è risultato il taxi Scusami Tu sarai scarsa Non il nostro taxi Allora come lo cambiamo? Qua Questo qua Questo vedi che è complicata Ma non è impossibile Ok dai e poi facciamo l'estrema Mi sembra giusto fare una via di mezzo Facciamo un po' di soldini Investiamo sul taxi Poi andiamo a fare quell'estrema Perché dobbiamo farla Bellissimo che si potenzia i taxi Sembrano quei giochi di corsa Fantastici Esatto esatto Però è un taxi invece che è una formula 1 Esatto Due persone addirittura? Ok stiamo andando a cenare a Cenatown Uh che buono 650 metri Vorrei mangiare anch'io dal cinese Che buono Eh non sei sicura che vanno dal cinese Ah Cenatown No è impossibile Cenatown è tutta a te Ma non devi andare a contromano No 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 Siamo partiti malissimo Malissimo Perché mi distrai con il cibo cinese Cosa me ne frega me E ma sto pensando a guidare Ho fame Ecco vedi 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 Ascolto e mi schianto Tu mi devi ascoltare Io parlo qui con solini E tu guidi Basta Guarda Opla L'hai visto? Oh sì Guarda anche questa Sulla macchina da poesia Quattro Tre No Due Ce l'hai fatta ce l'hai fatta Frenda 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 Zero cinquantadue Vai vai corri Hai nove secondi per finirla Erano due clienti Non ce la posso fare Non ce la posso fare Scusate 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 No È andata Purtroppo Purtroppo Me l'ha data fatta Zero Virgola Zero Zero Secondi Io non ci credo Che ce l'ho davvero fatta così Perché poi Io ci ho visto arrivare All'ultimo traguardo E ho letto Scaduto Anche io Cioè non l'ha presa perché è scaduto l'ultimo secondo Esattamente Vabbè non facciamo domande Scusate io non ho accettato di guardare una pubblicità Qualcuno me la tolga Allora 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 Io voglio frugare un po' di cose Ad esempio se io vado sui miei taxi Ho solo il mio Ok Ma secondo me se io vado tipo in potenziamenti da qualche parte Ok Posso comprare un taxi diverso Dici? Sì Sì In ogni caso Il nostro problema Sta nella velocità Del motore Quindi adesso potenzio il motore per 1100 Sì Potenzio le ruote per 930 E potenziamo anche magari il boost Che dici? No Non l'abbiamo ancora sfruttato bene Secondo me è meglio prima le parti del taxi Però io vorrei comprare anche una nuova macchinina E non ho idea di dove si fa E non puoi Aspetta Corsa giornaliera Hai provato la corsa giornaliera di recenti? Complete una corsa giornaliera ogni giorno per ricevere tariffe fantastiche Cosa sono le tariffe fantastiche? Vediamolo Proviamoci Proviamoci Gioca vai Dice 500 per checkpoint però Non in totale Oh bello Ci facciamo un sacco di soldi Ok Allora mi devo concentrare Superati i checkpoint possibili Ma stiamo diventando un tassista da gara Adesso facciamo le gare Capito? Concentrata eh Ok Ok Vai Siamo prontissimi Ok Questo è un checkpoint E quindi ci ha già pagato 500 Capisci? 16 secondi e ne abbiamo già fatto due Quindi già mille Ottimo Più di mille 1500 adesso E ci ha dato 6 secondi in più Uso il turbo Oh yes Allora praticamente in giro ci sono i cosi blu Che gli danno secondi extra Eh l'ho capito E i cosi verdi che invece mi danno un turbo Sì l'ho notato Però quello che mi chiedevo io C'è proprio una gara infinita Più checkpoint fai Esatto Più soldi fai Ok sì Ah ok Quello volevo capire Però l'ho spiegato caro mia perché non hai letto prima Perché io non leggo mai niente Io guardo direttamente le cose Non ti vergogni? Non ti vergogni? Non ce la faccio al prossimo Quanto abbiamo fatto secondo te? C'è scritto 2500 Ah ecco lì non vedevo neanche quelli Ah ecco lì non vedevo neanche quelli Oh vabbè non male Quindi 5 checkpoint 2500 Sinceramente Cioè se riesci a farli bene puoi farti davvero tanti tanti soldi Esatto Quindi non è male questa modalità Non è per niente male Infatti la puoi fare solo una volta al giorno Capito? È ovvio altrimenti spammeresti i soldi Però ogni giorno Vedi Eh sì c'è No guarda il giorno 5 900 900 A checkpoint di 20 Da matti proprio Anche perché poi ne avvento i migliori Il taxi E quindi arrivi anche molto più lontano Vuoi sapere quando è di nuovo disponibile la corsa giornaliera? No grazie perché non voglio le tue notifiche che mi svegliano di notte alle 4 del mattino Esatto Perché poi le mandano sempre le impensabili Esatto Ok Allora qua nel profilo abbiamo obiettivi due che ce ne dà fatti Che ci dà dei diamantini Ok Qua sono le mutande di Superman? E questa cosa a livello estetico vai l'ho comprata Dove sono? E poi la verniciatura Ah li so Oh No però mi piace giallo E ormai è cambiato Dai un taxi è giallo non può essere viola Eh Dai è figo però eh Non tanto Anche perché qua sono più corse clandestine che taxi secondo me Eh ma devi Siamo a tema Da tassista Da taxi E quindi devi essere giallo Adesso è diventata difficoltà normale perché abbiamo potenziato Allora Ok Se è seco di benzina Ah 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 Pure la benzina C'è pure la benzina E ovviamente si acquista No Allora facciamo il rifornimento gratis Ma ci pensiamo Se l'abbiamo Ok adesso abbiamo il serbatoio pieno 40 secondi per fare 800 metri Guarda come vado già più veloce Hai notato? Sì A voglia È molto 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 meglio Quindi sicuramente il motore potenziato ci ha dato una bellissima mano Allora scriviamo la polizia per favore Wow Schivata improvvisa Bella 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 Ok sto pensando se usare il turbo perché è pieno di gente Curva Benissimo Va bene così Schiva 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 Benissimo ma non super bene perché è un po' slittato in curva Benissimo ma non benissimo non me lo dici a me Benissimo ma non super bene Boost Vai 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 Quanti ambulanze pure È pazienza Fermati È più importante il taxi Ottimo Ah no sto facendo salire un tipo Ok 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 adesso 30 secondi Vai bello Stiamo riandando a Cenatown Yo Yo Stai leggendo i dialoghi No l'ho inventato Ah ok Però amico ce l'ha scritto Acrobazie folli stanno urlando Sì Epiche sgommate Vi devo fare cose pazze eh guardate Uuuuh Sono pazzi sti qua Oh mamma mia Ah e poi dice ho paura amico ma come Prima lanci le cose lanci le sfide Eh mi ha fidato E poi capito non le vuoi fare Esatto Dai 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 Freno 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 Andato 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 Un secondo e 16 Altro che normale come difficoltà eh Eh è stata tosta sì E adesso vanno in giro Guarda lì Ma dove stai andando Scendi da lì Che ti spezzi il collo Scendi Io te ho detto Prima abbiamo aiutato un tipo a licenziarsi Ad andare a vivere dentro un parco Poi abbiamo aiutato due tipi a fare Acrobazie e passe con gli skate Sinceramente siamo il peggior taxista del mondo Ci hanno dato una missione speciale Che secondo me è fatta Posta per Ferri Niki Sto pensando di farla giocare a te Perché ti leggo la descrizione Ascolta Novellino Le strade sono troppo affollate L'unica cosa che ci rimane da fare è Suasciare tutto Ma devo usare un carro armato? Io voglio questo Vi prego Fattimi usare il carro armato Oh mio Dio Finalmente mettono qualcosa anche per me Che bello Hashtag Gioco della vita Scontrati con più veicoli possibili Prima dello scadere Andiamo a te Detto fatto Cioè questa è la missione della mia vita Detto fatto Vorrei troppo farlo nella vita Sono prontissimo Che poi sei proprio vestito da militare adesso Ci sta Ci sta Vai Sicuramente andremo lenti Vero? Ma no Corriamo pure Spacco Allora veicolo vieni qua E l'ho già mancato Ok Ok gira 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 Mi sono dimenticato Quando li devi distruggere E non li distruggi Esatto Aspetta qua Boom 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 Gira Boom Vai qua e fai tutte le macchine Esatto Guarda Sembra che prenda di tua velocità Ogni volta che spacco qualcosa Beh sì è l'obiettivo Quindi mi sembra anche giusto Abbiamo già fatto 2000 dollari Continua così Stef Continua così Ma qual è l'obiettivo? Scatta Quando ci possiamo fermare? A ogni veicolo che distruggo Faccio 100 soldi in più Però ho preso un turbo Che mi sta facendo scattare tantissimo Lo vedi? Vai tanto Continua a prendere i veicoli Quindi va benissimo Esatto Ho preso anche del tempo extra Polizia 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 Ma quanto stai scattando gioco? Ti sto facendo impazzire Mettilo Boom 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 Allora Praticamente era tipo 170 A veicolo che colpisci Capito? Hai il tempo Più ne distruggi in quel tempo Spasso di 21 Bello 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 È un altro mediocre È un altro Sì sì Vabbè Io Mediocre A distruggere veicoli Forse non sei forte come me Capite? Un gioco davvero Pazzo 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 Crazy Taxi Il nome lo dice Dai non ci potevamo aspettare Molto di diverso Davvero divertente Ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Quindi Sondaggino per farvi piacere Farvi sapere Se vi è piaciuto Farci sapere Se vi è piaciuto Grazie Finisci tu Traduco io Consolini Tranquini Continua Continua No è finito Finisci Traduci Sei stupido No Non ci provare E non ridere Con quella risata La pazza Non la puoi usare La risata malefica Non la conoscono Quella risata Non ti esce mai in video Ed è meglio Non farla scoprire Perché le cose malefiche Le faccio fuori solo dai video Capite? Altrimenti spaventerei I consolini Invece Li hai spaventati Fin troppe volte Invece li tengo Capito Tranquilli Eh sì Tranquillissimi Comunque ci fermiamo così Ovviamente una serie Su questo gioco Non avrebbe senso Si potrebbe valutare Come su Pixel Gun 3D Di fare magari Qualche altro episodio singolo Quindi in base a come andrà Views Likes Eccetera Vediamo se magari Ogni tanto Riproporvelo Come per Pixel Gun Che ancora siamo indecisi E stiamo decidendo Quindi ci fermiamo così Speriamo che vi sia piaciuto E ci vediamo domani Beh ragazzi Noi ci stessi Se giusti Ciacciateci un bel like E se la prima volta Che vi ho detto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao